stai la pungipoli supera tutti supera tutti supera tutti fede ha superato tutti guarda cosa ha fatto Yato non cala non cala dai non mi batti di unigi lui è il campione è bisogno non sai che sono tutti gli stendono per slide Yuligi non mi batti no 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 non c'era uuuuuh 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 uuuuh 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 uuuuuh uuuuss secondo io ho tempo tutto io ho fatto la piazza il piano non lo ha detto l'aspetta vai freddo, non mi batte non mi batte, 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 aspetta uguale a me e vai sono no, no, no! dai, tocca a me no dai, facciamo uno per uno vai a data! vai a data! vai a data! vai a data, vai a data ma la regoletta aspetta aspetta, aspetta, aspetta così non batti viva così cartone, 832 Federico Picciolini no, aspetta, il gioco non devi fare così, così faccio tantissimo, devi fare dritto quello è difficile guarda, ok, faccio un ritorno, faccio così ok, devi occupare tutto, guarda vai, dì, dì bravo chiamo guarda, guarda, guarda guarda, guarda andrea, andiamo devo andare con la regola, ieri questo è uno dei miei colleghi e adesso andrea via l'andrea l'unica partiva la macchina come sempre andrea l'inchiate fortissimi andrea faccio 5 euro